Qualche piccolo problema per Lady Oratorio, tutto a posto, partite! Dall'esterno prova a farsi sotto Best Lady, all'interno prova a fare partenza anche Blue Bailey's, dall'esterno Best Lady, forza! E passa in vantaggio nei confronti di Blue Bailey's, sulla prima piegata, in terza posizione, all'esterno c'è Gorgius Gadot che lascia all'interno Jolikadot, poi più indietro le altre con Iter che capeggia il gruppo insieme a Exile, Grimpa, Fight for Gold nel cuore del gruppo, davanti Best Lady, nei confronti di Blue Bailey's, in terza posizione all'esterno c'è Gorgius Gadot, all'esterno prova ad avanzare anche Exile insieme a Iter, tra le prime posizioni all'esterno anche la grigia che è Lady Oratorio, che prova ad avanzare, Best Lady non si risparmiano avanti, nelle mani di Gregorio Arena, Gorgius Gadot che prova a emergere in seconda posizione insieme a Jolikadot, poi all'esterno c'è ancora in quota Blue Bailey's con Jolikadot che si prepara all'esterno di Best Lady, questi due che prendono vantaggio, Best Lady contro Jolikadot, Best Lady che ha sempre un e mezza di vantaggio, poi Iter che prova a intervenire insieme a Exile, Fight for Gold, ancora Blue Bailey's Lady Oratorio che guadagna poco con Best Lady in vantaggio, attaccata da Gorgius Jolikadot e all'esterno anche Exile, per l'interno si butta Fight for Gold con Exile che è passata, all'interno c'è Fight for Gold che si ingamba, Fight for Gold all'interno! Ivan Rossi, Fight for Gold, buca le avversarie all'interno, seconda Exile e terza probabilmente ancora Jolikadot, vince la numero 7 di Fight for Gold, Ivan Rossi per la seconda, l'uno di Exile, per la terza il 6 di Jolikadot, 7-1-6, probabile ovviamente ufficioso arrivo, Fight for Gold, vince Ivan Rossi i colori e il training di Michelino Bebbu.